con il nostro primo ospite che torna a 105 Matrix, è con noi l'onorevole Roberto Fico del Movimento 5 Stelle nonché presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, buonasera presidente buonasera, buonasera a tutti buonasera, bentornato a 105 Matrix bentornato allora onorevole Fico, lei che sta nella commissione di vigilanza della RAI parliamo anche un po' di queste fake news che è l'unica cosa di cui si occupano tutti siamo travolti dalle fake news non se ne può più basta, basta ma di che cosa stiamo parlando? io la penso come lei, uno dei rari casi in cui siamo d'accordo forse ma lei mi deve spiegare una cosa ma secondo lei il problema delle fake news è un problema veramente solo politico o è una di quelle mode che ogni tanto ci sono in un paese? no ma il punto, se le chiamassimo prima di tutto in un altro modo ovvero sono bufale bufale, bufale esistono da quando esiste la comunicazione da quando è stato inventato il ciclo stilato oppure quando è stato inventato la radio, la televisione è della storia della nostra comunicazione e del passaggio delle informazioni che è composta anche dalle famose bufale e quindi non è un problema del 2017 ma è un problema che c'è sempre stato e in certi periodi questo problema viene un po' più... ma perché secondo lei oggi? perché attribuiscono a voi e a Lega? io ce l'ho una... e cioè dica... un'ipotesi il Partito Democratico in questi anni rispetto ai social network, rispetto alla rete, alle strategie di rete è stato molto indietro possiamo dire antistorico noi siamo invece arrivati proprio con la rete quindi con una concessione di questo strumento molto avanzata il PD ha cercato sempre di incorrerci ma non ci è mai riuscito appieno e quindi anche oggi che continua a inciampare in cose della rete non sa difendersi e non sa costruire la cosa che divene più semplice è attaccare il Movimento 5 Stelle qualsiasi bufala sia venuta fuori dai siti e così via e dice che noi siamo gli spiegatori di questa cosa è chiaro che è un ragionamento ridicolo che lascia il tempo che trova anche perché i siti, quelli che dicono collegati a noi sono accanto di persone che noi non conosciamo fanno quello che vogliono e se c'è motivo di querela saranno querelati ma questo è tutto senta ma io sono un po' sdraiato in questa intervista perché non l'ho interrotta perché adesso i giornalisti devono essere devono essere dopo Fazio, Vespa tutti i giornalisti che non interrompono e non litigano che noi politici sono sdraiati secondo lei no assolutamente no il non interrompere significa ascoltare per poter poi fare una domanda anche più ficcante perché uno ha ascoltato bene la risposta l'importante è non essere mai supini a un politico ma esclusivamente ascoltare per poter rispondere poi al meglio e avere un dibattito che sia quanto più possibile costruttivo e interessante secondo lei i giornalisti della RAI adesso per esempio l'intervista fatta a Berlusconi da Fazio lei l'ha vista quell'intervista? l'ho vista, a me non è piaciuta ma perché non l'è piaciuto quello che diceva Berlusconi o perché non l'è piaciuta l'intervista? sono due cose diverse ovviamente sì, quello che diceva Berlusconi assolutamente non mi è piaciuto anche perché continuiamo ad avere una persona come Berlusconi in tv che per un anno ha tenuto un mafioso in casa come Mangano che viene definito da Dell'Utri che è in galera per concorso esterno in associazione mafiosa un eroe bacio destro di Berlusconi e fondatore di Forza Italia quindi siamo all'assurdo e queste cose secondo me vanno ricordate in un'intervista a queste persone poi alla fine gliel'ha fatta una domanda su Dell'Utri gliel'ha fatta una domanda su Dell'Utri però io non voglio entrare proprio nel merito va bene, va bene, va bene ha chiesto Fazio però dico che possono esserci anche i criteri di intervista un po' più è preoccupato per la campagna elettorale che partirà dal punto di vista che riguarda lei cioè Presidente della Commissione di Vigilanza della RAI non di tutte le televisioni o radio ma della RAI lei ha una preoccupazione o pensa che poi alla fine in campagna elettorale la par condicio metterà tutti sullo stesso piano? io sono preoccupato infatti già circa un mese fa ho chiesto ai vertici della RAI proprio alla Presidente Maggioni e al Direttore Orseo di essere molto attenti già da subito anche al di là della normativa che tra poco verrà stringente della par condicio perché la campagna elettorale sappiamo che nel nostro paese inizia molto presto possiamo dire che è già iniziata e quindi già tenere la massima attenzione poi faremo la nostra delibera in Commissione di Vigilanza che attuerrà la par condicio ma in un mondo che lei ha descritto bene e che secondo me è la fotografia di quello che avviene cioè che la rete ha milioni di persone e che il Movimento 5 Stelle anche forse solo per un motivo generazionale la rete la sa usare e la conosce è il nervo del Movimento 5 Stelle a parte le battute però siete molto sulla rete perché siete nati con la rete ma lei veramente pensa che sia la televisione il luogo della par condicio quando ormai ovviamente abbiamo milioni di modi alternativi per poterci informare onorevole Fico la par condicio alla par condicio io non credo più non ho mai creduto in realtà perché avere il giornalista che fa il, possiamo dire, il farmacista 10 secondi a lui è un qualcosa che non ha più senso oggi nel mondo attuale io voglio ricordare però come nasce la par condicio nel Venira nasce perché avevamo un caso unico nel mondo se non nelle dittature ovvero che il Presidente del Consiglio era anche proprietario delle televisioni tipo media Fettel era allo stesso tempo Presidente del Consiglio e quindi in qualche modo controllava la RAI e c'era una sorta di monopolio per contrastare questo monopolio e la disparità di informazione nasce la par condicio per cercare di dare a tutto il tempo il detto di parole equilibrato ora noi nel nostro paese purtroppo e questo è una colpa della classe politica non abbiamo mai affrontato fino in fondo è davvero il conflitto di interessi che ne abbiamo sempre parlato ne hanno sempre parlato e non l'hanno mai fatto noi nel 2013 quando siamo arrivati in Parlamento la prima cosa che abbiamo presentato è una norma sul conflitto di interessi e la nostra non è mai passata perché era un vero conflitto di interessi sono passate norme molto più e oggi e oggi dobbiamo continuare a vedere questa legge che anche questa è antistorica però tutela un po' tutte le forze politiche ma lei che gli frega di un passaggio del Movimento 5 Stelle al Tg1 al Tg2 Fico ma veramente vi cambia la vita? 5 Stelle non mi cambia la vita ma non è quello io in questo caso siccome sono il Presidente della Commissione di camerare di vicinanza io devo studiare tutte le forze politiche nel loro poter parlare nella televisione pubblica e allora faccio applicare la legge della Parcondicio ma si deve superare è antistorica devono superarsi le leggi i modi in cui si formano i consigli di amministrazione della RAI dell'Agicom è chiaro che sono politicizzati perciò dobbiamo riuscire a staccare definitivamente la politica della RAI la politica dell'Agicom e così via Onorevole Fico ma per Berlusconi siete il primo avversario da attaccare invece Salvini lo ha detto anche qua continuo a corteggiarvi l'ha detto anche qua in radio non è che alla fine al posto del patto del Nazareno ci sarà il patto Lega Movimento 5 Stelle? come lo chiamiamo il patto Lega 5 Stelle? perché noi siamo lontani anni luce nei modi nei atteggiamenti da proprio lo strato culturale da dove provvediamo è diretto quindi con la Lega non ci sarà mai assolutamente nessuna d'accordo nessuna convergenza sui temi anche perché alla fine quando vai a prendere un po' i contenuti fino in fondo della Lega e non solo in superficie abbiamo differenze incredibili ma soprattutto Salvini che vuole fare la persona nuova l'antisistema si allea con Berlusconi che è dentro al sistema da tantissimi anni e che è condannato per strade fiscale a molti processi a carico ma al di là di questo ma tutte le promesse che ha fatto negli anni le campagne elettorali poi come presidenze del Consiglio non sono state mai realizzate un milione di posti di lavoro il miracolo italiano il contratto con l'italiano è arrivata una notizia tutte buffonate che stiamo ancora pagando oggi un'ultima ora proprio di un ultimo secondo Berlusconi andrà a processo a Siena per aver pagato questa e l'accusa un testimone stiamo parlando del Rubi Ter però visto tutte le critiche che lei e che il suo movimento ha fatto a Silvio Berlusconi e continua a fare non pensa che c'è un'attenzione o proprio è contrario a questa idea che ci sia un'attenzione giudiziaria nei confronti di Berlusconi incredibile e al capone al capone io non voglio entrare nel singolo nelle no nelle indagini della magistratura io non ho queste indagini a carico di nessun tipo di anche una allora non so se c'è un accadimento o meno ma non è quello io dico che ci sono tanti lati oscuri ci sono delle condanne ci sono c'è il braccio destro che è dentro per concorsi esterni in associazione mafiosa perché garantiva soldi alla mafia e protezioni a Berlusconi Berlusconi è una persona che si è tenuto un anno come stalliere falsamente mangano e veniva definito un eroe ma stiamo parlando di gente che il paese non dovrebbe neanche più candidare in una lista la responsabilità è personale però è onorevole Fico la responsabilità è personale Berlusconi Berlusconi non è stato condannato per questo motivo Berlusconi non è stato condannato per questo motivo ma evidentemente se tu per tanti anni il fondatore di Forza Italia e il tuo braccio destro persona che ancora oggi definisci una persona che è un perseguitato politico sinceramente posso non fidarmi di Berlusconi posso dire che la persona ognuno legittimamente può fare quello posso pensare che allora non è una persona che sa scegliere le persone vicino a sé e quindi diventa il rischio un pericolo per il paese se c'è uno che sta facendo accordi con la mafia e il tuo braccio destro e non lo sai adesso è in galera cosa pensa di questa ne abbiamo parlato prima in editoriale una piccola cosa rispetto alle grandi vicende però un piccolo malcostume di questo vostro consigliere in un piccolo paese della Sicilia che fa anche la professoressa a Torino e che facendo il consigliere nel suo paese siciliano non si presenta a scuola tutto legale tutto legittimo sia percepito anche io ho letto solo su Repubblica ho letto ho letto un po' e mi sono rinformato dalle informazioni che ho preso e che io ho il preside dice che questa persona è totalmente a fare richiesta a norma di legge ed è il tempo per cercare una supplente non c'è alcun problema da quel punto di vista il fatto che sia a norma di legge non vuol dire che insomma sia una cosa voglio specificare questo che ha norma di legge quindi chiede i permessi per andare a fare il consiglio comunale o la commissione i permessi di viaggio i permessi del consiglio e poi torna ad inizio c'è mai andato da settembre il punto è questo non lo so il punto è opportuno o non è opportuno è la domanda che ci si può che ci si può esatto solo questo conoscendo la vicenda veramente nello specifico non sapendo se magari questa insegnante è una vicina della buona scuola che stava in Sicilia è dovuta andare per forza come storie che mi arrivano da tutte quante è certo sicuramente così ma è sicuramente così Fico è sicuramente così vediamo un poco però io direi proprio di chiedere alla diretta interessata la vicenda perché non la conosco qui nel fondo senta è preoccupato voglio chiudere con un'ultima battuta permetta io sono stato il RAI per tre anni lei era presidente quando c'era ma lei è preoccupato del fatto che il RAI 1 la grande corazzata la sera ha perso ascolti che Giletti ne sta facendo un ottimo risultato sulla sette lei da presidente della commissione di vigilanza proprio della RAI è preoccupato di questo andazzo o pensa che è una dinamica del mercato io non sono preoccupato se si perdono un po' di ascolti sono preoccupato se non si che non si ci dà un obiettivo sulla qualità in tutti i programmi sulla grande indipendenza e la forza di scegliere anche persone nuove per costruire una prospettiva totalmente e culturalmente diversa in RAI allora possiamo fare anche negli ascolti a volte più alti arricchendo dinamiche di chi non mi interessano e quindi sarei preoccupato tra virgolette anche di quegli ascolti io voglio una RAI totalmente diversa in alcuni settori in molti programmi nella condizione culturale voglio l'accesso ai giovani voglio che non esistano più le partite i giovani non li vedono più la televisione onorevole Fico sentono più la radio in un network di comunicazione tra cui esiste anche il web esistono le applicazioni nuove che la RAI può sviluppare esistono tradizioni che siano interdinamiche interculturali grazie onorevole Fico non l'abbiamo fatto speriamo che succeda non l'abbiamo fatto lo scherzo della canzone neomelodica è questo e per questo ci scusiamo la prossima volta così dovrà tornare un'altra volta in radio giusto giusto preparato però preparato non è murolo la prossima volta andiamo sul duro grazie l'onorevole Roberto grazie onorevole